Gli scienziati hanno trovato nelle foreste della Birmania un reperto fossile molto particolare, importante per poter ricostruire l'adattamento dei ragni. Quella che state vedendo è un chimera rakhne yinghi, creatura perfettamente conservata nell'ambra, vissuta 100 milioni di anni fa, durante il Cretaceo. Possiede otto zampe, denti ed una coda lunga quasi il doppio del suo corpo, ma la cosa che avete sicuramente notato è che per conformazione sembra una via di mezzo tra un ragno ed uno scorpione, la cui coda probabilmente veniva utilizzata come una sorta di antenna per orientarsi. Per quanto possa sembrare grande e spaventoso, misurava in realtà 2,5 cm. Inoltre si pensa che possa essere stato addirittura privo di ragnatele. Non si esclude poi che organismi simili possano ancora vivere in habitat moderni, soprattutto se poco conosciuti come le foreste del Myanmar. Non sarà di certo il primo esemplare ritrovato, ma questo in particolare, soprattutto parlando di conservazione, potrà esserci d'aiuto a comprendere meglio gli arachnidi di altri tempi.